Quando l'incontrai la prima volta, provai vedendola una strana sensazione, non fu sbalordimento né ammirazione, non fu ciò che si chiama il colpo di fulmine, ma una sensazione di benessere delizioso, come se mi avessero immerso in un bagno tiepido. I suoi gesti mi seducevano, la sua voce mi incantava, tutta la sua persona mi dava un infinito piacere a guardarla. Mi pareva anche di conoscerla da lungo tempo, di averla vista qualche altra volta. Recava in sé qualche cosa del mio spirito. Mi appariva come una risposta ad un appello lanciato. Dalla mia anima, all'appello vago e continuo che gettiamo verso la speranza durante il corso della nostra vita. Quando la conobbi un po' di più, il solo pensiero di rivederla, mi comunicava un turbamento squisito e profondo. Il contatto della sua mano era per me una tale delizia che non ne avevo mai immaginato di simili prima di allora. Il suo sorriso mi accendeva negli occhi una gioia folle. Mi dava una voglia di correre, di ballare, di rotolarmi per terra. Diventò la mia amante. Fu più che questo. Fu la mia vita stessa. Non mi aspettavo più nulla sulla terra. Non desideravo più nulla. Non invidiavo più nulla. Una sera che eravamo andati a passeggiare lungo il fiume, si sorprese la pioggia. Prese freddo. Nendomani si ammalò di polmonite e otto giorni dopo spirava. Durante le ore dell'agonia, lo sbalordimento, lo smarrimento mi impedirono di capire bene, di riflettere. Poi la disperazione mi attanagliò talmente che non ebbi più il senso della ragione. Piansi. Durante tutte le orribili fasi del seppellimento, il mio dolore acuto, furioso, era ancora un dolore di folle, una specie di dolore sensuale, fisico. Poi quando partì, quando fu sotto terra, la mia mente ritornò lucida. Mi passai attraverso una serie di sofferenze morali così spaventevoli che l'amore stesso che mi aveva dato mi era caro anche a quel prezzo. Un'idea fissa penetrò allora nella mia mente. Non la rivedrò più. Quando si pensa a questo durante un intero giorno, la follia si impadronisce di noi. Pensate. Una creatura che adorate vive accanto a voi. È una creatura unica che su tutta l'estensione della terra non ne esiste un'altra che le assomigli. Questa creatura vi si è data, ha cercato con voi quell'unione misteriosa che chiamiamo l'amore. I suoi occhi, i suoi occhi chiari dove sorride la tenerezza sembrano più vasti dello spazio, più belli del mondo. Questa creatura vi ama. Quando vi parla la sua voce vi versa un'onda di felicità nell'anima. E ad un tratto ecco, scompare. Pensate. scompare non soltanto per voi ma per tutti e per sempre. È morta. Capite voi questa parola? Mai, mai, mai in nessun luogo lei esisterà più. Mai. Mai più quegli occhi guarderanno. Mai più quella voce, mai più una voce simile fra tutte le voci umane. Pronuncerà nello stesso modo una di quelle parole che la sua pronunciava. Mai alcun viso rinascerà simile al suo. Mai. Mai. Si conservano i modelli delle statue. Si conservano le impronte che riproducono gli oggetti con gli stessi contorni e gli stessi colori ma quel corpo e quel viso non ricompariranno mai più sulla terra. E nasceranno migliaia di creature, milioni, miliardi e anche più. Ma tra tutte le donne future non si troverà mai più quella che ho adorata. È possibile. Si diventa folli pensandoci. È vissuta vent'anni, non più. Ed è scomparsa per sempre. Per sempre. Pensava, sorrideva, mi amava. Poi più nulla. Più nulla. Ma pensavo che il suo corpo, il suo corpo fresco, caldo, così dolce, così bianco, così bello, se ne andava in decomposizione in fondo ad una cassa. Sotto terra. E la sua anima e il suo pensiero, dove sono? Non rivederla più. Non rivederla più. L'idea di quel corpo decomposto mi ha ossessionato. Ho voluto rivederla ancora una volta. Mi avviai al cimitero con una vanga, una lanterna o un martello. Scavalcai il muro del Camposanto. Trovai la sua tomba che non avevano ancora sistemata. Scopersi la bara. Sollevai una tavola della cassa. Un fetore abominevole. Il soffio orribile delle putrefazioni mi investì. Oh, il suo letto profumato di giaggiolo. Sollevai tuttavia tutto il coperchio della bara. Accostai la mia lanterna e la vidi. Il suo viso era bluastro, gonfio. Paventevole. Un liquido al nero le colava dalla bocca. Lei. Era lei. L'orrore mi assalì. Allungai il braccio e presi i suoi capelli per avvicinare il mio al suo viso mostruoso. O in quel momento che venne sorpreso. Per tutta la notte ho conservato come si conserva il profumo di una donna dopo una stretta d'amore il lezzo immondo di quella putrefazione. L'odore della mia adorata. Fate di me ciò che volete. Uno strano silenzio pareva incombere nell'aula. Sembrava che si attendesse ancora qualche cosa. I giurate si ritirarono per deliberare. Quando rientrarono alcuni minuti dopo, l'accusato sembrava senza timori e anche senza pensiero. Il presidente con le formule d'uso annunciò che i giudici lo assolvevano. Lui non fece un gesto. Il pubblico applaudì. Grazie. 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 Grazie.